Siamo in questo luogo che forse è il luogo più santo della cristianità, come spero abbiamo iniziato a comprendere e come capiremo più a fondo lo speriamo anche attraverso queste brevi riflessioni e attraverso questi giorni in tutta volta la cristianità, perché questo luogo l'ha finito infinite volte, però la comprensione del luogo cresce con il crescere della nostra fede, tutto da qui è cominciato e qui dentro c'è tutto, 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 io volevo articolare queste questioni in due parti, la prima parte qualche considerazione personale tra voi sulle incarnazioni, la seconda parte vorrei commentare uno scritto del libro di Cielo, in riserva di Dio che si è rincarne dal quindicesimo volume, che parla proprio dell'incarnazione del verbo, Gesù stesso spiega cosa è accaduto nel grembo della Madonna, quindi quanto è grande il luogo che stiamo vivendo, veramente come sempre qualcosa di spettacolare. Quello che io voglio far notare è, sono da solo, la Madonna e l'Alcanzaro Capriere che parlano di la sovrana libertà di Maria Santissima, lo stile delle opere di Dio che vengono nel più assoluto, silenzio e riservo, la cooperazione libera e volontaria della Madonna che sto a perdere, c'erano Dei e Dio e basta. Questo ci fa comprendere, e vi prego di pensarci, noi non abbiamo una vita di fede, non ci sta proprio, fino a quando non intestiamo un rapporto personale, intimo, con Dio. Non serve che tappare l'altro scambio dell'opriere, né che uno serve a revisione o altre cose, ma non c'è vita interiore, la stragrande maggioranza anche delle persone che sono più o meno vicine alla Chiesa, più o meno, hanno o un rapporto formale, o molte volte lontano, o distante, o quasi esclusivamente mediato, significa mediato, cioè, quello che ti dice il prete, il rito, la processione, la stessa preghiera vocale, la preghiera vocale è già appena costituita, come si fa a capire il rapporto personale con Dio? Se stavo subito con un altro, cosa fai dopo la buona? Questo si capisce subito? Cioè, quando hai preso la buona? Se quando prendi la buona, tu che fai? Cioè, come ti relazioni, perché nella cui, guardate che, l'incarnazione, si verifica in modo, con la Santa Comunione, se te, ma è la stessa cosa, se non diamo, la notumana, il verbo, ma veramente Gesù Cristo scende dentro di te, realmente, non viene fuori cammini, in persona, certo, attraverso il pelo della fede, ma in lui. Allora, se quando tu ti fai la comunione, non sai che pidi al nostro Signore, oppure, se capite, tenersi presente, non si tratta di accusare, di fare un tipo morale, eh, la cosa bellissima che si scopre dentro il mondo della Divina Volontà, che è un mondo divinitimo, veramente, è che tu, sapete come dice il provvedono, dimmi quello che fai, ti dirò che sia un senato di un tradizio, cioè, se tu fai la comunione, scappi subito via, vuol dire che il rapporto con Gesù non ce l'hai, e che la comunione che prendi, anche se stai in grazia, te fa quasi niente, perché voi sapete, il sacramento c'è, ma l'efficacia del sacramento, soggettiva, dipende da come tu ti prepari a riceverlo, e da come tu cooperi appena lo ricevi, e sei per voce, capite, ci conavano, la tanta fede cattolica, non è la fede delle magie, cioè, tu prendi la comunione, sarebbe come una funzione magica, che tu la prendi, ti libera da tutto il male, ti fa andare in paradiso, ti fa volare, funziona così la comunione, d'accordo, è lui, ma è quel lui, che scende dentro di te, non come un pezzo di legno, scusate, ma come un interlocutore attivo, vivo, responsabile, come lo tratti a Gesù, ma non ti senti, già, non te lo senti in colpa, non te lo senti in colpa, d'accordo, prendi atto di come è, perché se questo ancora non c'è, chieditola a Gesù, chieditola a Madonna, la Madonna, adesso lo vedete, la Madonna è despertissima, della conoscenza, nessuno ha un rapporto con Dio, come Maria Santissima, se non ce l'ha, chieditola, perché se questo non parte, guardate che molte volte, io ci ho fatto qualche pratica, un pochino ironica, no? Tutti si lamentano dei, credenti non praticanti, e non ci stanno i praticanti non credenti? Capite? Praticanti non credenti, cioè, che fanno tante cose, per abitudine, perché sono buone persone, sono bravi, non sono cattivi, ma, capite, al di là di qualche pratica formale, al caso che non c'è niente, e tutto il patrimonio infinito, che ha la vita di fede, la vita di grazia, non è niente? La Madonna testa veramente una cera, coinvolta responsabilmente, no? La Madonna non dubita, ma siccome chiede, non ero un Dio, ok, e come avverrà questo? Sapete che c'è la tradizione, che la Madonna che ha fatto il voto di virginità, prima per tutte le creature, se Dio deve essere detto il rinuncio al voto, l'avrebbe fatto subito, subito d'astante, senza manca di una bocca, lei ha dato tanto capire, che succede, la fidanzata di José José, ci pensa allo Spirito Santo, ma lei ha dato una, un'appolazione all'attesione, libera o volontana, eccola, c'è la decisione, c'è la scelta sua, qui, dove lei era presente, e avrebbe potuto dire di nole, sovranalmente libera, così come sappiamo dagli istinti di divisa, appena luce vita, Dio gli mise davanti, la benità del buono, la meditazione di questa mattina, io le ho fatto vedere, guarda che la rovina dell'umanità, è dipesa dal fatto, che l'uomo è voluto fare la bontà, solo la mia, solo questo, ora scegli cosa vuoi fare, la Madonna se ti si succede, che è? io prendo la mia volontà, per allegro altronomo, che io passerò un istante, della mia vita, senza fare quello che ho avuto, ma è stata un'operazione, libera e libera, straordinaria, perché messa in condizioni, non tutto particolari, con la cosa che non c'è molto, ma sempre, libera e responsabile, adesso sentite questo, brano, per chi c'è il libro di cielo, volume quindicesimo, 16 dicendo di 1922, sentite, oggi stiamo tranquilli, non ci prendiamo fretta, quindi mi perdonerete, se sforriamo di qualche, un pochino, di tempi canoni, c'è per un'ordia, però, la circostanza è un po' eccezionale, no? Figlia diretta mia, se il concepimento, della mia mamma celeste, fu prodigioso, il concepimento di Maria, di immacolata concezione, e fu concepita, nel mare, riuscita alle tre divine persone, il mio concepimento, qui parla Gesù, cioè quello che è avvenuto qui sopra, non fu nel mare, che uscì da noi, ma nel gran mare, che risiedeva in noi, la nostra stessa divinità, che scendeva, nel seno originale, di questa vergine, e restare concepito, è vero, che si dice, che il verbo, è stato concepito, ma il mio celeste padre, lo spirito santo, erano inseparabili da me, è vero, e io, e mi la parvi a gente, ma loro, è vero, la è vero, corrente, immagina che poi, due riflettori, di cui, uno ripette nell'altro, lo stesso soggetto, guardate che qui, si va parecchino altro, eh, questi soggetti, sono tre, quello di mezzo, prende la parte operante, sofferente, subligante, e gli altri due, mi stanno insieme, mi concorrono, e sono spettatori, sicché, potrei dire, che dei due riflettori, uno, era la Trinità, sagosanta, e l'altro, la mia mamma, e il pericolo, lo troverà, un tecnicamente, lei, nel breve corso, della sua vita, sappiamo, quando la c'era, 14, massimo 15 anni, nel momento della concessione, e in molte apparizioni, appare, ovviamente, con le sembranze, di una, adorescella, bellissima, ma si vede, che giocissima, nel breve corso, della sua vita, col vivere, sempre nel mio volere, questa era la forza, unica, della corona, mai staccarsi, neanche, di una virgola di questo, mi preparò, nel suo originale, se no, il piccolo terreno divino, dove io, verbo eterno, dovevo vestirmi, di umana carne, attenzione, perché mai, sarei disceso, dentro un terreno umano, questa è una cosa, molto bella, che Gesù, ha detto la provvisa, non bastava, che la Madonna, fosse immaculata, non bastava, non bastava, non bastava, anche che fosse piena, di grazia, nella Madonna, era piccolo, per ante, la divina volontà, altrimenti, il verbo non scendeva, in una cosa, santissima, ma puramente, e solamente umana, e riflettendo, la trinità, in te, che stai concepito, onde, mentre questa stessa trinità, restava in cielo, la dottrina cattolica, dell'Incarnazione, con Cini, su cui ho scritto, tanti articoli, su Stimane di Padre Pio, mentre la trinità, restava in cielo, io restavo concepito, nel senso di questa nobile regina, adesso attenzione, tutte le altre cose, per quanto siano grandi, nobili, sublimi, corrigiosi, anche lo stesso concepimento, della Vergine Regina, tutte restano lieto, dinanzi a quello, che è successo, qui so, non c'è cosa, che possa paragonarsi, né amore, né grandezza, né potenza, al mio concepimento, noi siamo abituati, al verbo spesecante, cioè, però, fermatevi un attimo, capite, cioè, Dio che diventa uomo, cioè, è tanta roba, capite, non è uno scherzo, non è un gioco, era veramente, qui non si tratta, di formare una vita, ma di richiudere la vita, con la P maiuscola, richiudere la vita, con la P maiuscola, che dà vita a tutti, non di allargarmi, ma di restringermi, per poterli far concedere, non per ricevere, ma per dare, chi ha creato tutto, rinchiudersi, in una creata, e piccolissima umanità, perché la Madonna, era divina, era immacolata, era una creatura, cioè, dallo stacco che c'è, dall'increato, è comunque, in abissale, e la Madonna, è vicinissima, tipo, come dice San Luigi, non forte, che ha visitato questo, ma è vicinissima, ed è molto lontana da noi, cioè, tutti i santi, messi insieme, non parlo neanche, unghia della Madonna, ma la distanza che c'è, tra le teremo, è infinita, per quanto, insomma, guardare che la Madonna, basterebbe, io sono convintissimo, che basterebbe, in paradiso, vedere, ininterrottamente, la Madonna, come dire, e avervi riflesso da lei, tutto quello che lei, che ha, sa di Dio, basterebbe, eppure, io in persona, lo supera, infinitamente, che lì creano, queste sono opere, solo in Dio, e di un Dio che ama, che a qualunque costo, vuole legare, col suo amore, la creatura, per farsi affare, lo scopo, con l'incarnazione, manifestare il suo amore, immenso, e, attenzione, come diceva, Sant'Alfonso, Maria degli Buoni, altro, illustro, visitatore, di questo santuario, devotissimo, della Madonna, Dio come, ci accettiva, ci accettiva, lui ci accattiva, con il suo amore, ecco perché, il tempo passa, e più, lo sentirei, fino a una nausea, comprendo, come, l'unico, modo, corretto, per entrare, nel rapporto, con Dio, è, mettersi, fidanzi al suo amore, interpella, la libertà, individuale, e personale, della persona, se tu, non ti, non ti, non ti lasci toccare, da questo, e non rispondi, tu, liberamente, sottolineo, quattro, all'appello, del Signore, riconoscendo, il suo amore, e sentendo, il desiderio, la voglia, di ricambiare, niente, serve, a niente, quando, questo succede, diventa tutto facile, quando, questo non c'è, è pur andato a messa, la domenica, spero di essere, spiegato, Gesù, così, ma questo, è un ben nulla, ancora, ma poi finito, sai, dove sforgorò, tutto il mio amore, tutta la mia potenza, tutta la mia sapienza, non appena la potenza divina, formò questa piccolissima umanità, sentite, tanto piccola, che potrebbe paragonarsi, alla grossezza, di una, nocela, attenzione, qui, c'è una nota, qui si usa una parola, dialetto, che significa, nocciola, ma che, allo stesso tempo, in dialetto, indica il tessuto, interno, dell'opolo, che dà origine al sacco, embrionale, quindi, ok, così, come, termini tecnici, cioè, capite, Dio, mantenuto dentro l'ozione, ecco perché, vedete, l'eucaristia, tu li scandalizzi, dice, attenzione, hai frammenti, che un millimetro quadrato, di ossa consagrata, contiene Gesù Cristo, è più piccolo, lo zicolo, è un millimetro quadrato, l'eucaristia, non dobbiamo scandalizzarci, e attenzione, e dentro questa, con le membra, tutte proporzionate e formate, al microstrofo, e il verbo, le storie, ceblinis, l'immensità della mia volontà, attenzione, facciamo un altro modo, racchiudendo, e le passate, presenti e future, perché la divina volontà, ogni istante, lo prende, tutte quante, questo è essere Dio, concepì in essa, attenzione, tutte le vite, delle creature, e come cresceva la mia, così crescevano, loro, in me, voi pensate, quanta gente, campa, che non gli passa, ma come la ticamera, del cervello, del genere, fanno delle vite, schifose, ma brutte, non tale da Dio, disastrate, senza che manco, gli passa, per la ticamera, del cervello, del genere, che è stata, oggettivamente, fatta, però, dal verbo, all'istante di incarnazione, sicchemente apparentemente, parevo solo, visto il microscopio, della mia volontà, si vedevano, concepite, tutte le creature, allora, quando San Paolo, parla del verbo, attenzione, dice, tutte quante le cose, sono state create, per mezzo di lui, e in vista di lui, attenzione, moffi, andiamo a recchi, cioè, l'uomo, la Santissima Trinità, funziona così, è stata bene, io ci trovo, un pochino in alto, allora, la prima cosa, che Dio ha pensato, uscendo fuori, dalla Santissima Trinità, sapete qual è stata? Il verbo, fatto caro, la seconda, è stata, la creatura, che ha recuperato, questo mistero, poi, tutto il resto, della creazione, cioè, il mio concepimento, che è avvenuto, nove mesi, prima del 18 settembre, del 71, ha la sua fonte, nel concepimento, del verbo, del verbo della Madonna, così come, quello di tutta quanta, la razza umana, siccome è possibile, nella Dichina Volontà, il tempo non c'è, capite, quindi, in un punto, solo, focalizzato anche, nel tempo, attraverso la creazione, del verbo, lo prende tutto, capite, questo è il fondamento, anche per cui, ogni anima, fatta immagine di Dio, ogni anima, è oggetto dell'amore di Gesù, oggetto dell'amore della Madonna, ma semplicemente, per il fatto che è un'anima, ma ultimamente, ho scritto un articolo, sulle settimane, che è un pochino difficile, cioè, che parla, di come, l'opera di Gesù, della Chiesa, l'ho detto anche, al carico, negli ultimi incontri, riguarda, tutta l'umanità, anche le persone, che senza loro colpa, non fanno parte, della Chiesa, capite, perché, cioè, noi pensiamo, che il big male, che è stato, e che Dio, non sa perché è stato concepito, l'anima, è stata messa, nella foresta, strani big male, non qui, noi pensiamo, che Dio non ci pensa, il big male, che sia strano, o la sua vita, o che Dio, se ne finisce, non, noi siamo, il resto sono tutte altre bestie, diventiamo i primi razzisti del mondo, si è, ma stiamo scherzando, è chiaro che è diverso, a far tenere la Chiesa Cattolica, in pienezza, però, Dio c'è un ragù di quello, e se quel big male, che conosce la Chiesa, si comporta in coscienza, direttamente davanti a Dio, può raggiungere la salvezza, perché? Perché è stato concepito di Gesù, perché Gesù ha sofferto per lui, e perché la Chiesa, nella sua azione, prega per tutti, io da poco c'erano i sacri, e il big male, io prego per tutti gli uomini, davanti al sacrificio della voce di Cristo, capite? Capito che è successo, qui sopra, quella è casa nostra, non per scherzo, ma sul centro, non semplicemente pensare, a casa nostra, cioè la casa della Madonna, siamo tutti quanti di voi, la Madonna, allora è casa nostra, perché insomma, non è casa nostra, sul centro, allora, concludo, quasi di un toro, c'è di che cosa, 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 speriamo qualcosa sia, perché, qui si va, parecchio, in alto, però, ecco, cioè, non è colpa mia, se il termo si è fatto carne, e se il concetto, ci trovate queste cose qui, questa è tanta roba, questa qui, io sto cercando di fare il più semplice possibile, però, succedeva di me, come quando si vedono anche cristallini, che mentre compariscono, chiare, i biologi, ce n'è qualcuno qui, visto che il microscopio, quanti microbi si vedono, avete mai visto, immaginato, questa gocetta d'acqua, che sembra voler, se la avete al microscopio, dice, mamma mia, è successo, miliardi di micro, tutte queste cose, che si muovono, dentro questa goccia, il mio concepimento, fu tale, tanto grande, è stato attento, che la gran ruota, dell'eternità, restò colpita, ed è statica, nel vedere, innumerevoli eccessi, del mio amore, in tutti i prodigioni, iniziali, in quell'istante, tutta la quale, dell'universo, restò scossa, a un universo, mo facciamo un'altra preghia, non mi sono raccontato, ce ne avete, ce ne avete, di documentare, noi siamo arrivati a vedere, a qualche, non so quanti anni luce, con il mio scopo elettromonte, ma non mi ricordo, io mi ricordo, da un mio momentario, che ho visto, se uno volesse uscire, dalla via Lattea, che è una galassia, dove, e riuscisse, a costruire, un'astronava, che viaggia, alla velocità, della luce, 300 mila km al secondo, ci metterebbe, 23 milioni di anni, per uscire, dalla nostra galassia, da una galassia, capito, la via Lattea, cioè, qui c'era, tutto l'universo, resta scosso, nel vedere, rinchiudersi, colui che dà vita a tutto, perché quello che stava, nel tempo della Madonna, alle galassie, non ci tutte e quattro, ci sono tutte e quattro, la sua fila, tutte, resta scosso, nel vedere, rinchiudersi, colui che dà vita a tutto, restringersi, rimpicciogirsi, rinchiudere tutto, per fare di cosa, per prendere le vite di tutti, e far rinascere tutti, e lo servono altre parole, siamo da Gesù e Maria, senza che sia lo scato, grazie, 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 grazie,